buongiorno buongiorno ragazzi oggi comincia una nuova serie it like provo la dieta ovvero per 24 ore mangerò come un personaggio famoso e il personaggio famoso di oggi è rullo di tamburi cristiano ronato prima di tutto cominciamo col dire che mangia sei volte al giorno quindi fa sei pasti colazione uno spuntino due pranzi e due cene pasto per pasto vi farò vedere cosa mangia nel dettaglio sui gramature calorie e macronutrienti per cui non c'era un'indicazione precisa mi sono informato su web tramite le interviste e foto di cristiano su instagram gli articoli dei giornali da lì ho calcolato il suo td e quindi ho costruito in base agli alimenti che mangia la sua dieta sono ormai le otto e mezza del mattino direi quindi ricominciare col primo pasto di questa giornata la colazione cristiano comincia la sua giornata mangiando 120 grammi di prosciutto cotto 250 grammi di formaggio e 150 grammi di yogurt il tutto ovviamente accompagnato da acqua naturale che cristiano beve 6 litri al giorno e qui non è un problema perché anch'io ne bevo 6 litri quindi impiattato il tutto direi che possiamo procedere buon appetito cominciamo assaggiando il formaggio formaggio magro sapete un po' sprono però ci sta perfetto fatto buono vedere in combinazione con il formaggio è una buona combinazione un po' sprono una vita che non mangio yogurt classico e solitamente mangio quello greco andiamo ad assaggiarlo molto meno densi rispetto a quello greco già però non è male chi sta e anche lo yogurt è andato ora cosa fa il cristiano va ad allenarsi ovviamente aspetta la sua ora ora e mezza e poi va allenarsi centro sportiva del manchester united o del portogallo nel mio caso palestra ci vediamo quindi più tardi con il secondo passo di questa giornata che non si sa se sarà lo spuntino o il pranzo perché cristiano non ha un vero orario per lo spuntino se gli impegni lo permettono lo fa prima del pranzo se no lo fa prima della cena vedremo quindi in base anche gli impegni ora vado ad allenarmi noi ci vediamo più tardi e eccoci qua post workout sono le ore 13 direi di andare con il secondo pasto lo spuntino perché nel mentre che digerisco lo spuntino preparerò il pranzo che è una cosa un po lunga visto che io non ho i cuochi che a cristiano abbiamo due banane 200 grammi di avocado ovviamente senza il nocciolo andrò aggiungere nell'altro nel caso e 250 grammi di pane di segale ed ecco il nostro bel piattino a base di avocado banana e pane di segale direi di non perdere altro tempo e andare ad assaggiare il tutto banana e avocado buono anche in combo sono buoni con il panno di segale e infatti mi sono fatto dei sandwich con avvocato e con la banana che dire vero gusto con il panno e con il panno bene anche il secondo pasto lo spuntino dato ci vediamo più tardi con il terzo pasto di questa giornata ovvero il pranzo anzi il terzo quarto perché sono due pranzi pranzo uno e pranzo due che vedrete dopo ore 14 32 terzo e quarto pasto di questa giornata ovvero primo pranzo e secondo pranzo il primo pranzo è composto da 150 grammi di pollo 250 grammi di insalata mentre il secondo composto da un chilo e 195 grammi di patate un pomodoro tonno una lattina due uova e 60 grammi di olive non avendo lo chef a disposizione tocca mettersi i fornelli cucinato ed impiattato il tutto direi che è arrivato il momento di andare a gustarci questo terzo e quarto pasto ovvero primo e secondo pranzo andiamo subito ad assaggiare beh un classico polo insalata petto di polo insalata buono e poi e poi e poi e poi Il terzo pasto, quindi, per il pranzo, è andato. Il quarto pasto, ovvero il secondo pranzo, assaggiamolo. E' veramente un ottimo combo, buono, piace. Ultimo boccone e concludiamo anche questo quarto pasto. Non ci vediamo più tardi con il quinto e sesto pasto di questa giornata, le due cene. Ed eccoci qua, sono le ore 21.09. Ora di cena, cena 1 e cena 2, ovvero quinto e sesto pasto di questo full day of eating di Cristiano Pronato. Abbiamo 180 grammi di bistecca e di scottona, 200 grammi di anelli di totano e 250 grammi di insalata. Ora, meglio mettersi i fornelli. Benissimo direi che siamo pronti per cominciare questi ultimi due pasti, le due cene. Andiamo ad assaggiare questa bella bistecchina. Buon appetito. Buon appetito. Buon appetito. buona niente di così speciale comunque costiamoci questa cena ultimo anello di totano e se concludiamo che questa cena due cene la prima e la seconda quindi anche questo il quinto e sesto pasto della giornata considerazioni finali su questo full day of eating di Cristiano Ronaldo dieta molto equilibrata al contempo molto gustosa ottimi alimenti ottime fonti di proteine, grassi e carboidrati certo se fossero stati alimenti più freschi nel mio caso ovviamente Cristiano li ha sempre freschi sarebbe stato meglio comunque direi un'ottima dieta come sempre se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento e condividete perché non posso così continuerete a far crescere il canale ed io sarò molto grato molto importante ricordatevi di attivare la campanella delle notifiche per non perdervi nessun video e se ancora non l'avete fatto ovviamente iscrivetevi al canale e se volete rimanere con me 24 ore su 24 7 giorni su 7 seguitemi anche su Instagram così potete vedere allenamenti pasti giornalieri relaxci il day della domenica e fare episodi della mia vita privata vi lascio il link un video in descrizione questo blog full day of eating termina qui ma noi ci vedremo presto in un prossimo video ciao ciao Grazie a tutti.